La Trindina è un'arteria fondamentale che collega Bruzzo e Molise, strada che però spaventa perché sono tanti, troppi i gravi incidenti che capitano. Questa mattina nella sezione della Polizia Stradale di Chieti, riunione tecnica con gli amministratori e alcuni comandanti della Polizia Locale dei Comuni Interessati alla problematica. Subito dopo il vertice, queste le dichiarazioni delle dirigenti della Stradale di Chieti, Tommaso Vecchio. Questo tipo di riunione nasce da un'intesa con la Prefettura, un'intesa importante, forte con la Prefettura e la volontà di Sua Eccellenza il Prefetto di voler affrontare ovviamente questa tematica così delicata e naturalmente così sentita. E quindi per tale motivo ne scaturisce questa riunione a fronte di decisioni prese nel Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto. E quindi su indicazioni di Sua Eccellenza viene svolta questa riunione coordinata dalla Polizia Stradale. Quali sono i possibili correttivi? Innanzitutto questa statale è stata già oggetto di attenzione per quanto riguarda dei servizi sviluppati dalle polizie locali e dalle forze dell'ordine durante il periodo estivo. Quindi abbiamo già registrato con ottimi risultati una implementazione dei servizi di rilevazione della velocità. E quindi con un controllo assiduo. In questo contesto si è naturalmente deciso di implementare ulteriormente questi controlli garantendo la presenza specificamente delle polizie locali ma anche delle altre forze dell'ordine per controllare e sviluppare ancora di più questi servizi così importanti di rilevamento della velocità. Non stiamo parlando in questo contesto della presenza di autovelox fissi. Quella è un'installazione eventuale, futura, è una valutazione futura che si farà e che è comunque stato oggetto di analisi. No, stiamo parlando della presenza di maggiori pattuglie.